Avremmo mica trovato il Neumann 87 economico? Forse sì, ed è molto bello. Sigla. Oh ragazzi, come state? Finalmente torno con una nuova recensione, una recensione, pensate un po', di un microfono, e neanche di un microfono cinese economico, di un microfono cinese californiano. Strano? Vi spiego tutto. Circa una settimana fa sono stato contattato dai ragazzi di Tech Zone Audio che mi hanno proposto così dal nulla. E Mario, ti va di provare il nostro microfono, lo Stellar X2? Boh, sì, mandate. Avevo pensato, come al solito, sarà una roba cinese, un microfono cheap, 10, 15, 20 euro, quella roba lì, mandate, mandate. Vado a vedere su Amazon. Porca troia, il loro microfono costa 320 euro. Ora, devo specificare, non mi hanno pagato per questa recensione, ci mancherebbe altro. Mi stai regalando un microfono da 320 euro? E questa è una di quelle situazioni che fanno molto influencer, ma che in realtà tirano fuori tutta la pezzenteria che c'è dentro di te e tu in quel momento riesci a pensare solo microfono gratis, microfono gratis, microfono gratis. Tuttavia, conosco me stesso, per comprarmi probabilmente basterebbe un pezzo di pizza, però non sono così stronzo da consigliare qualcosa che non mi piace o che fa cagare a 1500 persone, quindi vi specifico che nella loro mail loro sono stati chiarissimi. Hanno detto, Mario, tu puoi essere il più onesto possibile in questa recensione, accettiamo le critiche, siamo aperti a tutte le critiche. Benissimo, fatta la premessa, possiamo andare avanti. Il microfono mi è arrivato a casa in questa scatola, molto neutra. C'è scritto Stellar X2, designed in Southern California. E qui torniamo al punto di prima, i cinesi dalla California. Perché? Perché questi ragazzi propongono questo microfono come l'U87 economico. Prima che iniziate tutti quanti a ridere, fanno un po' a quello che cerca di fare la warm audio con i suoi microfoni, ovvero sono disegnati in California, nel loro caso sono anche testati in California, però poi vanno a spostare la produzione in Cina, quindi pagano meno di mano d'opera, roba varia, eccetera, eccetera. All'interno della scatola, cosa ancora più figa che mi ha fatto gasare non poco, troviamo questa splendida valigetta che fa molto microfono da ricchi, microfono super di lusso. Mi è piaciuto molto, sul di sopra c'è disegnato il microfono, non è un pezzo di carta, è proprio stampato sulla valigetta. La valigetta dentro è tutta rivestita in foam, carino. ASMR. Troviamo un astuccetto di pelle, come se la valigetta Super Premium non fosse già abbastanza, molto gradito per il viaggio. Sacchetto che contiene una Quick Start Guide per il microfono. Un certificato di garanzia con anche il certificato dei test che sono stati fatti su questo microfono. Cerco di farvelo vedere. E infine una lettera dei signori della Tech Zone Audio, dove c'è la risposta in frequenza nel microfono. Non so se riuscite a vederla, però è super piatta. Super, super, super piatta. Perfetto, vediamo che altro arriva nella confezione. Shock Mount, tutto in alluminio, non eccessivamente premium. Non mi sembra uno di quelli super high-end, però c'è anche da dire che il microfono è molto piccolo, quindi ci sta. Classica spugnetta preservativo, pop filter. Potevano metterci qualcosa di un po' più elaborato, un pop filter normale, però va bene. E poi c'è lui, la nostra star, il nostro Stellar X2. Molto piccolo, compatto. La capsula dentro si vede bella, bella grossa, bella cicciotta. Pesante, ottimi materiali, si vede che non è una cavolata, quindi immagino che anche se gli accessori non fossero, so granché tutto il budget, sia andato qua dentro. Bello, solido in mano, dà l'idea di qualcosa di costoso, di premium. Andiamo a vedere come suona, che dite? E adesso state sentendo l'audio grezzo di questo Stellar X2 della Techzone Audio, registrato attraverso la mia Focusrite Scarlett solo, e che entra in Logic Pro. Sul microfono non ci sono effetti, però fuori dalla mia finestra ci sono tanti motociclisti, teste di cazzo, che passano sotto casa, sgasando, Dio vi possa bucare le ruote con un fulmine. Stronzi, se non li sentite, significa che la riduzione del rumore dal side del microfono funziona molto bene. In più, ho anche il condizionatore acceso di lì, e... perché sto morendo? Sto morendo? Fa caldo? Non vedo l'ora che arriva l'estate. Beh, che ve ne pare? Non mi sembra per niente male. Non mi sembra niente, 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 niente male. Lo proviamo con una chitarra? Che dite? Vediamo come si comporta su una chitarra, poi ci facciamo una cantata. La chitarra è una chitarra. Ragazzi, scusate, ma sto suonando su una gamba sola, praticamente. Molto, 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 molto bellino anche sulla chitarra. Chiaramente mi stanno rientrando un po' le ventole del computer, però non possiamo farci niente. Comunque, sulla voce mi fa impazzire, il suono è caldissimo, il low-end precisissimo, non è tagliente come lo è l'Aston Origin, come lo era il Rod NT1 che avevo prima che ho venduto perché non riuscivo a cantarci in quel microfono tanto che le mie sibilanti venivano taglienti. niente, niente, niente male, mi sta piacendo davvero tanto. Ora, la domanda fondamentale da farsi resta una. Loro parlano di Neumann U87, U67, come può competere? Allora, precisiamo, non ho un Neumann U87, ci mancherebbe altro, non ho idea di come sia averne uno, però leviamoci un attimo quelli che sono i concorrenti reali sulla sua fascia di prezzo. Mi sembra più caldo e più bello dell'Aston Origin che ho provato, sicuramente più bello di un Rode NT1A. Per quanto riguarda l'Aston Origin vi rimando al video di Francesco di Riperiani che ha fatto un bellissimo confronto, fa vedere quanto questo microfono tiri fuori molte più armoniche rispetto ad un Aston Origin. Le armoniche aiutano a far sedere la vostra voce e il vostro strumento nel mix, a bucare un po' il mix. Lui lo spiega benissimo nel suo video e sempre alla fine di quel video lo compara anche con un U87. Ora vi dico la mia. Se un U87 costa 2000€ un motivo ci sarà. Ora, vale la pena avere un U87 in home studio? Secondo me no. Perché nel 90% dei casi non abbiamo il gear adatto a spingere bene un microfono del genere. Non abbiamo un preamplificatore, non abbiamo compressori outboard analogici. Io sto entrando nella mia Focusrite. A quel punto nel contesto home studio questo microfono in queste condizioni di registrazione può competere con un U87? Molto probabilmente sì. Perché? È preciso, perché già vedo quelli che verranno nei commenti di allinciarmi non sto dicendo che è meglio di un U87 in ogni caso non è meglio di un U87 può competere con un U87 in queste condizioni di registrazione? Registrazione? Sì. Sì perché l'U87 è molto più sensibile di questo quindi prenderebbe ancora più merda di quella che adesso lui sta prendendo e il mio suono sarebbe ancora peggio sì anche perché come vi ho detto in questo contesto un U87 non renderebbe al suo massimo. Semplice. Semplicissimo. Adesso per fare una prova un po' più musicale chi è un grande fan dei Neumann? A chi andiamo a rompere il cazzo oggi? Chi andiamo a deflorare? John Mayer. John Mayer ha rilasciato il suo ultimo singolo The Strenome. Avete visto probabilmente settimana scorsa che per me era ieri sapete che la linea temporale su YouTube è sempre invertita ho fatto uscire una cover di The Strenome e la voce di quella canzone era registrata interamente con lui. Ora John Mayer registra il 99% delle sue produzioni con U87 U47 in studio TLM103 a casa. Questo qui secondo me il TLM103 se lo mangia ma non sto qui ad argomentare perché non potrei darvi le prove non possedendo un TLM103 però secondo me in un studio questo qui se lo mangia però che ho fatto? Provato a registrare la voce di quella canzone e a cercare di arrivare al livello della produzione vocale che aveva John Mayer attenzione cercare di avvicinarmi avvicinarmi molto da lontano guardando da dietro l'angolino tipo gli stalker perché ragazzi restiamo umili io quella produzione vocale quel livello di skill quell'attrezzatura quell'abilità anche nel mixare quel tipo di voce probabilmente non ce l'ho e non ce l'avrò per ancora molto tempo però secondo me il risultato che ne è venuto fuori è abbastanza pregevole dai pregevole vi faccio vedere il progetto in logic ok ragazzi sono tornato allo zoom perché le ventole del mio computer stavano letteralmente esplodendo il mio computer sta decollando però vi voglio far sentire un pezzettino del progetto adesso vi faccio sentire il pezzo di John Mayer e poi un pezzettino del mio risultato vocale chiaramente disattiviamo tutta questa roba sul master questo qui è invece lo Stellar un'ottima voce mixata ottima decente proviamo a disattivare tutti gli effetti vi faccio sentire la voce dry questa qui invece è la voce finale con tutta la catena di effetti ragazzi che dire il microfono mi fa letteralmente impazzire ve l'ho fatto sentire con le vostre orecchie non perché voglia tenere contenti la Stellar che me l'ha regalato però veramente è un microfono che fa il suo sporco lavoro un microfono della madonna 320 euro li spenderei no per mia povertà interiore però devo ammettere che è veramente bellissimo non so se ci sia di meglio sicuramente meglio di un qualsiasi Rod nt1a meglio anche di un aston origin vi ripeto andate a vedere il video di francesco dove fa un confronto diretto però c'è poco da fare è un bellissimo microfono i probabili concorrenti che tirere in mezzo sarebbero forse i lewitt la nuova serie quella tutta strana però non ho avuto modo di provarli non li conosco non posso parlarne fatemi sapere nei commenti voi che ne pensate questo sarebbe un buon momento anche per iscriversi al canale se volete supportare questo video se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video in cui vi faccio vedere magari se vi va come ho ottenuto quella catena vocale alla John Mayer se vi può interessare a me fa solo piacere spero che la recensione vi sia piaciuta vi lascio in descrizione il link amazon al microfono se voleste dargli un'occhiata e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao